www.morizopoli.it, tra le misure che sono state approvate per affrontare questa emergenza Covid, per anche la ripartenza e rilancio delle piccole e medie aziende domiciliate in Lombardia e anche i professionisti, è questo bando della regione Lombardia che si chiama adesso Credito Adesso Evolution, che è un'evoluzione del bando già operativo Credito Adesso. Le particolarità che le imprese e i libri professionisti devono essere attivi nella regione Lombardia da almeno 24 mesi, quindi due anni. Interessante per quanto riguarda le piccole e medie imprese, i prestiti vanno dai 18.000 euro fino a un milione e mezzo di euro, con un borso a 36 mesi con rate semestrali. Lo stesso per i libri professionisti, il taglio è adeguato a loro, nel senso 18.000 euro minimo fino a massimo di 200.000 euro. Il contributo in controinteressi da parte di regione Lombardia è stato aumentato dal 2 al 3%, qua poi vi riporto il bando e il codice ATECO per le imprese che possono partecipare a questo bando, molto snello, molto operativo, che può dare, valutando il progetto industriale, il progetto imprenditoriale della ripartenza per le imprese, questo contributo finanziario possa essere utile alla ripartenza in questo particolare momento. E' uno degli strumenti da valutare da parte dell'imprenditore dell'impresa per nuovo ossigeno, nuova linfa finanziaria per i propri progetti di ripartenza. Lascio i miei riferimenti, m.poli.io-solution.it, un numero di telefono 0372 20 405, mobile 349 571 4319 e il sito è www.mauritiopoli.it. Alla prossima! Alla prossima!